La chiesa e il monastero di San Giorgio Maggiore furono nel tempo modificati più volte, fino ad assumere l'aspetto definitivo grazie all'opera di Andrea Palladio. A differenza del convento, che rispetta le caratteristiche funzionali legate alla vita claustrale, la chiesa si rivolge tutta all'esterno, inserendosi armoniosamente nell'ambiente circostante. L'edificio si erge infatti su un ampio sagrato ed è orientato in modo da specchiarsi sul bacino di San Marco. Fu costruito a pianta basilicale, a tre navate, con una leggera e luminosa cupola emisferica. Al centro della facciata, gigantesche colonne si addossano al muro, includendo il portale e creando una forte sporgenza, alleggerita sui lati dalle semplici lesene corinzie, che completano il prospetto. All'interno sono conservati numerosi capolavori in un'armoniosa successione di spazi e di luce. Ricordiamo fra gli altri l'adorazione dei pastori di Jacopo Bassano, la Madonna in trono e santi di Sebastiano Ricci e il San Giorgio che uccide il drago di Vittore Carpaccio. Il dormitorio, detto la manica lunga, e il bellissimo chiostro degli allori, sono invece le costruzioni più rilevanti e antiche del convento, testimoni del radicale rinnovamento dell'architettura veneziana dalla metà del XV secolo fino al 600. Oggi il convento ospita la fondazione Giorgio Cini, attivo centro di cultura veneziana che organizza importanti manifestazioni e mostre internazionali. L'ultima cena di Tintoretto Dopo la grande impresa della decorazione della Scuola Grande di San Rocco, Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, ormai settantenne si impegna nella complessa realizzazione della grande tela della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale. Durante la lunga lavorazione gli vennero commissionate altre tre opere per il presbiterio della chiesa di San Giorgio Maggiore. La raccolta della manna, la deposizione di Cristo nel sepolcro e l'ultima cena. In questa tela, la struttura compositiva del dipinto è immersa nel buio e comunica all'osservatore un senso di mistero, rafforzato dalle imprevedibili rotazioni dell'asse prospettico. Tutto è avvolto in un turbinio di luci e ombre, guizzano le fiamme della lampada sospesa e fasci d'oro scendono dagli evanescenti voli angelici, quasi spettrali. Gli apostoli e le altre figure della stanza creano lunghe e inquietanti ombre sull'enorme tavolo e sul pavimento. Nell'oscurità, il Cristo carico di luce è il centro della scena. Tutti quegli elementi spettacolari che caratterizzarono le opere giovanili del Tintoretto sono scomparsi. Ogni particolare superfluo, profano, ha perso di importanza, lasciando il posto a una tensione religiosa profondamente drammatica, espressa con vibranti toni visionari. Grazie a tutti i nostri spettacolari che caratterizzarono le opere giovanili del Tintoretto.